cari toro è un bel regalo quello che vi fa lo zodiaco mette venere in orbita armoniosa e se non potete compiere quasi tutte le imprese miracolose del mondo poco ci manca perché comunque siete affascinanti siete in grado di entrare nelle simpatie nel cuore di tanta gente tanti contratti anche a tempo determinato potrebbero essere trasformati in contratti a tempo indeterminato quindi c'è una stabilità che arriva nella vostra vita e che conforta anche la situazione sentimentale perché questa venere che parla d'amore questa venere che parla anche di seduzione sulle spiagge sulle battigie sulle mulattiere sui trattori cuccate che è una meraviglia giovedì e venerdì le giornate migliori della settimana anche per dar sfogo a questo su domenico un po irrequieto